Promessa mantenuta. La strada della contessa che collega Marche e Umbria attraverso i comuni di Cantiano e Gubbio riaprirà prima delle festività natalizie. L'annuncio è arrivato ieri pomeriggio dalla sede di Confcommercio Marche Nord negli stessi locali in cui il 28 febbraio scorso l'associazione di categoria aveva accolto dirigenti ANAS e l'assessore regionale Baldelli per certificare un patto di lavori H24 che dimezzassero i tempi di realizzazione dell'opera dimezzando a sua volta i disagi di isolamento e viabilità delle comunità coinvolte. Lavori di ripristino strutturale del viadotto sulla statale 452 tra Gubbio e il confine della provincia di Pesaro erano partiti il 17 aprile e dopo le prove di carico previste il 13 dicembre l'arteria sarà riaperta presumibilmente il 18 dicembre. Io voglio ringraziare chi mi ha segnalato per primo il problema che è stata la Confcommercio Marche Nord perché non avevamo avuto segnalazioni della gravità del problema che doveva essere affrontato perché purtroppo in passato la regione Marche aveva declassato l'arteria stradale che oggi con Marche 20 e 32 il nuovo piano delle infrastrutture della regione Marche torna a far parte dell'ossatura fondamentale strategica della viabilità della nostra regione in questo tracciato molto importante che unisce la provincia di Pesaro Urbino in modo particolare Fano con Cantiano e Gubbio una direttrice importante della provincia di Pesaro Urbino verso Roma che serve un comparto industriale e turistico molto importante. Il mio ringraziamento va anche a Danas che ha garantito il rispetto dei tempi richiesti dalla regione Marche. Ricordavate che i lavori per la rigenerazione del viadotto della galleria che tutti conosciamo come Contessa era stato individuato da realizzare in un arco di tempo superiore ai 12 mesi tra i 12 16 18 mesi. Quei tempi sono stati dimezzati tra qualche giorno verrà riaperta la viabilità principale nel frattempo anche Anas Marche ha compiuto una serie di lavori nel tratto marchigiano di questa fondamentale arteria stradale in maniera tale da restituire in sicurezza quel tratto di strada agli utenti marchigiani. Abbiamo chiuso la SS 452 a partire dalla metà del mese di aprile, i lavori hanno proceduto secondo cronoprogramma e prima di Natale riapriamo la strada con il viadotto della Contessa completamente rinnovato unitamente ai lavori della galleria per un importo complessivo di investimento di circa 10 milioni di euro. Abbiamo demolito e ricostruito il viadotto della Contessa quindi con la costruzione di un nuovo impalcato metallico in sostituzione del vecchio impalcato in calcestruzzo e effettuato lavori di manutenzione importanti sulla galleria e sulle infrastrutture nell'intorno del viadotto che sono la tratta più critica della strada statale. Ovviamente ringrazio l'ANAS, ringrazio l'assessore Baldelli, tutti coloro che sono intervenuti per accelerare l'esecuzione dei lavori. Quest'estate noi abbiamo avuto un danno enorme dal punto di vista turistico soprattutto nella fascia Fano-Torette-Marotta che era un po' considerata la spiaggia degli Umbri. Tutte le attività economiche lungo il percorso, lungo la vecchia Flaminia, ristoranti, attività commerciali hanno subito danni notevoli e per questo oggi siamo felici di poter dire che il risultato auspicato è finalmente raggiunto. Noi come Confcommercio Marche Nord insieme alla Confcommercio di Gubbio faremo però un'iniziativa per agevolare le imprese danneggiate appunto da questa chiusura, una iniziativa che avrà tre filoni, uno gastronomico, uno legato all'archeologia perché siamo sia Gubbio che insomma la nostro territorio lungo la Flaminia che Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro è nato a Gubbio, Duca di Urbino, Gubbio è la seconda città del Ducato per cui faremo un'iniziativa promozionale per ricordare agli umbri che devono ripassare dalla Contessa intanto e quindi un modo per rivitalizzare dal punto di vista economico le imprese che appunto hanno atteso con ansia la riapertura. L'iniziativa è già pronta, programmata, a febbraio partirà. Quattro mesi iniziativa promozionale ovviamente sarà coinvolta le due Camere di Commercio e le due Regioni.